Ciao a tutti ragazzi benvenuti su questo nuovo video Oggi farò un altro moschezzo Un altro moschezzo da un'altra mia amica Ragazzi facendo solo un moschezzo Che questa qua si chiama invece Miriam E questa Che andatela a seguire Che pure lei mi fa Ok scusate E adesso che avrò un'altra migliore amica Che l'ho tradita perchè la sua Mi viene qui che sbatti Ciao Mary Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Devo scrivere Ciao Miriam Ciao Miriam Ciao Miriam Mi Evo Dio Cosa Importante I dobbè diamo Qual è la sua Miriam Qual è la tua Miriam Amica Tra No Amica Tra De De Ok Perchè vuol dire anche me Perchè mo Dice Ah boh Io dico lei perchè mo sto parlando con lei Dice Tra De Dice Poi lo so che amica dice E questa amica che dice Faremo finta che l'abbiamo Nessuno 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 Sono qui E no Tranne io La sua seconda Maria La tua Seconda Allora La tua seconda Allora No no Questa qua non dice Cioè Nessuno Ok Ok Raga Ho capito che la mette Maria Ok Allora Dobbiamo dire Maria Che la Che la Raga Raga Nessuno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok raga, scusate se sto in silenzio ma mi sto veramente sforzando, cioè ti ha tradito. Oh no, mi dispiace che non... No, è strudente. Cosa? Mi riama. 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 Mi riama.